e mercoledì dieci novembre buongiorno Friuli e bentrovati a questa nostra prima diretta del mattino che inizia come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi avremo cielo variabile oggi su tutto il Friuli Venezia Giulia con possibile formazione di foschia o di banchi di nebbia inserata sulla pianura temperature minime di due quattro gradi in pianura cinque otto gradi sulla costa e massime che andranno dai dieci ai dodici gradi chiudiamo adesso questa prima parentesi dedicata alle previsioni del tempo poi come sempre durante la nostra diretta del mattino andremo a sentire anche dalla viva voce dei previsori dell'Osmerarpa cosa ci attende anche per i prossimi giorni dicevamo chiudiamo questa prima parentesi dedicata alle previsioni del tempo per andare ad analizzare le prime pagine dei quotidiani nazionali dove oggi ovviamente troviamo in primo piano la notizia dell'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti vediamo come il Corriere della Sera racconta questa elezione nel titolo di apertura utilizza le parole del presidente Trump nel suo primo discorso ufficiale dopo l'elezione presidente per tutti ha detto Trump il trionfo di Trump basta divisioni e Obama lo invita alla casa bianca le reazioni sui mercati i mercati cedono ma poi recuperano Putin ora pronti a rapporti diversi vediamo appunto una foto di Donald Trump assieme alla famiglia sul palco dopo il suo primo discorso ufficiale da presidente vediamo nel taglio alto anche una foto di Hillary Clinton il dolore della sconfitta ragazze lottate ancora donne non smettete di lottare ha detto Hillary Clinton ieri dopo aver chiamato il neopresidente Donald Trump raccontano che molte lacrime sono state versate nella suite dell'hotel Peninsula dove Hillary Clinton Bill e la figlia Chelsea con la sua bambina di due anni si erano rifugiati e poi ancora vediamo altri tanti articoli oggi ovviamente sui giornali nazionali vediamo che l'articolo principale firmato da Aldo Cazzullo e Giuseppe Sarcina riunirò il paese sarò il presidente di tutti anche dichiarazioni consuete diventano notizie in bocca al leader più politicamente scorretto della storia l'America si aspettava Hillary e si risveglia con Trump è uno shock ma i mercati subito si riprendono Putin si congratula i Bush si adeguano Obama invita il successore alla Casa Bianca i due pur detestandosi si sorrideranno e si diranno che l'America è davvero il paese dove tutto è possibile e poi ancora vediamo l'articolo di Massimo Gaggi che ci racconta l'America che verrà e le quattro incognite poi legate appunto all'elezione di Trump di Trump ancora spunti di approfondimento le donne fantasma il mondo di Trump per quanto riguarda la politica estera la partita sui cambi tra euro e dollaro e poi ancora i riflessi sull'Europa è nata la nuova destra svanite le certezze per quanto riguarda anche i sondaggi che hanno sbagliato anche in questa occasione e poi la svolta degli operai che hanno votato per Trump e il loro voto è stato decisivo questa era la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a vedere velocemente anche tutte le altre pagine dei quotidiani nazionali Repubblica oggi titola così il mondo è cambiato il mondo è cambiato titolavamo otto anni fa quando Barack Obama conquistò la maggioranza degli americani con il suo messaggio di speranza e cambiamento il primo nero alla casa bianca e una mano aperta verso il resto del pianeta quella promessa è stata realizzata solo in parte mentre il terrorismo i nuovi nazionalismi hanno continuato a prosperare mentre la frustrazione di chi non riesce più a immaginare il futuro ha trasformato la speranza di cambiamento in rabbia e volontà di rottura il mondo è cambiato nuovamente ieri mattina in modo ancora più radicale e sconvolgente siamo di fronte all'elezione di un uomo che aveva contro tutto dalla biografia improbabile perché costellata di scandali e fallimenti all'inesperienza conclamata ma che è riuscito a incarnare nella sua persona il gesto liberatorio ritenuto capace di rovesciare il tavolo della vecchia politica e dello status quo sulla scena ci racconta Ezio Mauro interrogandosi sullo stato di salute della democrazia è apparso un pifferaio capace di chiamare a raccolta gli uomini e le donne dimenticati dell'america suonando la campana del riscatto se ciò è accaduto ragiona alessandro baricco nell'ultima pagina di questo quartino che avvolge il giornale è perché siamo di fronte a una mutazione antropologica che ha portato all'eliminazione delle mediazioni nei più diversi campi della nostra vita con la conseguenza di vedere l'elite culturali come qualcosa di inutile da rifiutare abbiamo sottovalutato la ferita di chi vede tradito il patto tra generazioni di chi somma la paura degli stranieri all'ansia per la globalizzazione al rifiuto della società multietnica la nausea per il politicamente corretto o la rivendicazione che l'uomo bianco tornasse a sedersi a capotavola hanno fatto il resto ci resta da riflettere come fa la scrittrice elisabeth strout sul vizio dei giornali di confondere gli auspici con la realtà ma ora ci tocca provare a capire quale sarà il mondo che ci aspetta questo quanto scritto oggi sulla prima pagina di repubblica da mario calabresi andiamo anche sulle altre prime pagine andiamo sul manifesto il manifesto titola così oggi america american psycho il trionfo di trump spaventosa svolta storica dice il manifesto andiamo anche sugli altri quotidiani vediamo velocemente i titoli di apertura il giornale oggi scrive sinistra sotto un trump mezzo mondo rosica il trionfo delle magnate fa impazzire vip buonisti e benpensanti e getta nel panico renzi dopo brexit e stati uniti tocca al referendum fallito il terrorismo finanziario le borse non crollano andiamo anche su libero vediamo anche il titolo di libero eccolo trump uno di noi donald nuovo presidente degli stati uniti è il trionfo della gente che vota pensando alle sue tasche contro i soliti intellettuali che predicano solidarietà ma non sanno nulla delle difficoltà del mondo reale e poi ancora vediamo il la foto a centro pagina addio ilary meglio tardi che mai cornuta e mazziata scrive il libero per inseguire la propria ambizione ha speso un miliardo di dollari chiudiamo anche libero adesso e andiamo sulla prima pagina del fatto quotidiano ecco il titolo trump gli incazzati ribaltano il mondo negli stati uniti come in europa vince chi riesce a parlare con il popolo della crisi ecco il titolo del fatto quotidiano che adesso chiudiamo per andare a vedere anche la prima pagina di un quotidiano economico finanziario il sole 24 ore che titola così in apertura lo shock di trump non scuote i mercati dopo l'elezione per la casa bianca le borse aprono in calo poi recuperano e chiudono in rialzo wall street più 1,39 per cento rally di rublo e listino di mosca al dollaro il dollaro prima scende poi si rafforza sull'euro e poi il primo discorso appunto di trump anche sul sole 24 ore superare le divisioni sarò il presidente di tutti e poi anche le parole di hillary clinton che dice lavoreremo insieme chiudiamo anche questo quotidiano e andiamo su uno sportivo andiamo sulla gazzetta dello sport per chiudere questa prima carrellata sui quotidiani nazionali e vediamo che anche la gazzetta dello sport nel taglio alto parla proprio dell'elezione del presidente degli stati uniti la sorpresa che scuote il mondo il pugno di trump titola la gazzetta dello sport donald mette capo il harry clinton e diventa il quarantacinquesimo presidente degli stati uniti vi spieghiamo i perché del suo trionfo anarchico wrestling box golf calcio ciclismo tutto lo sport del numero uno americano ovviamente la gazzetta dello sport anche un taglio sportivo a questa notizia e c'è anche il rompipallone di genna gnocchi prima mossa di trump presidente ha dato la formazione a montella ma andiamo a vedere adesso il titolo centrale della gazzetta dello sport di oggi con il campionato fermo per gli impegni della nazionale ricordiamo sabato gli azzurri giocheranno contro il lichtenstein si parla di mercato galassia mercato decollano già gli affari di gennaio e abbiamo l'analisi di carlo laudisa che dice dispetti e manovre sarà inverno caldo e è presto per il countdown ma il mercato sta già battendo i suoi sentieri in vista del nuovo anno e qui abbiamo appunto la galassia delle possibili eh trattative di mercato che intrighi tra le grandi scrive la gazzetta oltre a vizzen e tolissola juventus pensa a de ciglio per sostituire l'insteiner che potrebbe andare al barça scrive la gazzetta l'inter prepara il ritorno in italia di darmian e lavora su alex vidal il milan pressa badeli roma voglia di papu gomez ferrero propone muriel per gabbiadini ma il napoli in attacco punta a zaza o eh pavoletti con la prima pagina della gazzetta dello sport chiudiamo la nostra parentesi sui eh quotidiani nazionali andiamo adesso sui locali andiamo su messaggero veneto piccolo e eh gazzettino ovviamente l'elezione del presidente degli stati uniti eh tiene banco anche sui eh quotidiani locali questa è la prima pagina del messaggero veneto di Udine che oggi titola così rivoluzione americana e poi vediamo anche in questo caso tanti eh commenti eh tanti articoli a eh cominciare da Ferdinando Camon che analizza il voto e dice quando si ribella la classe media ecco il titolo e poi ancora eh Bruno Manfellotto una sequela di sbagli non solo nei sondaggi ancora scendendo sempre eh di spalla l'isolazionismo lascia spazio a Putin dice Renzo eh Guolo e ancora oggi a Washington domani a eh Berlino scrive eh Gigi Riva parlando dei contraccolpi eh di questa elezione ma andiamo a vedere anche le altre notizie eh riportate oggi sul messaggero veneto si parla di un intervento eh della ehm polizia e delle unità cinofile della guardia di finanza all'istituto stringer di Udine droga sei studenti nei guai blizza lo stringer i ragazzi ora rischiano la sospensione tra poco andremo anche nelle pagine interne ma vediamo velocemente anche le altre notizie richiamate in prima a Udine zona parco torre i cinghiali anche in città alcuni sono stati uccisi e poi sempre per la cronaca una coppia tedesca giravano con mine e lanciarazzi nell'auto sono stati fermati a eh Tarvisio andiamo adesso nelle pagine interne e eh andiamo a vedere anche i commenti che arrivano dal mondo eh regionale dalla nostra regione all'elezione di eh Donald eh Trump vediamo questa eh doppia pagina in cui si parla degli effetti di questa elezione per il Friuli Venezia Giulia a cominciare eh dal dagli effetti in campo economico parla eh Dario Snydero che dice europei in guardia il presidente punterà sulla Cina il responsabile del marchio Snydero negli Stati Uniti dice il neo eletto sarà tutt'altro che accomodante la società di Maiano ha redato i settecento appartamenti della Trump Tower di eh Chicago e poi ancora eh vediamo anche un intervento di Gianni Bravo ex presidente della Camera di Commercio di Udine che ha sempre fatto il tifo per Trump scrive il messaggero eh bravo che dice la svolta può riallacciare i legami con i eh russi ovviamente sempre sul fronte eh economico per quanto riguarda i rapporti del Friuli Venezia Giulia con gli Stati Uniti il Friuli esporta uno virgola quarantaquattro miliardi l'incognita eh del eh protezionismo sul futuro delle relazioni economiche fra Stati Uniti e Friuli Venezia Giulia sul fronte politico invece Donald spacca anche il partito democratico Bersani dice basta con il frufru bleiriano Serracchiani replica serve responsabilità e andiamo allora a leggere le parole della presidente Serracchiani che dice la ventata globale della destra impone prima di tutto l'unità delle moderne forze riformiste a cominciare dal PD per il nostro partito non è davvero il momento di guardarsi l'ombelico né di distillare metafore agricole perché in uno scenario internazionale oggettivamente difficile in un clima politico e sociale europeo che impone azioni concrete è imperativo che cessino subito le piccole beghe personali e che tutta l'attenzione si rivolga al paese reale ai cittadini e alle loro preoccupazioni soprattutto a quelle che non hanno voce o ascolto adeguato oggi siamo a un discrimine in cui anche la minoranza può dare l'esempio di come si comporta una classe dirigente responsabile e leale oppure può tornare a sfogliare il vecchio libro della storia del socialismo italiano di cui conosciamo la fine queste le parole della presidente della regione serracchiani e poi ancora vediamo i timori per un ridimensionamento della base statunitense di aviano il mio presidente ha professato una linea meno interventista l'allarme è stato rilanciato da stars and tribes e poi ancora vediamo anche un'ultima analisi di fabrizio annazzolini che a proposito del del vento dell'aria che tira in ambito politico dice snobismo e tanti errori così la classe dirigente si gioca al nostro futuro essere popolari stando al potere diventato quasi impossibile tecnici e partiti non riescono a capire la pancia della gente ma adesso torniamo alla cronaca e andiamo a vedere come apre il fascicolo dedicato a udine provincia ecco il blitz delle forze di polizia delle forze antidroga allo stringer di udine droga tra i banchi sei studenti nei guai denunciati due minorenni e identificati altri quattro giovani tra i 15 e i 18 anni rinvenuti marijuana hashish ed ecstasy nei giubbotti e sparsi nell'aula avevano nascosto la droga tra i banchi e all'interno dei propri giubbotti pensavano di farla franca ma non avevano fatto i conti con l'arrivo improvviso della polizia e delle unità cinofile della guardia di finanza sei studenti dello stringer tra i 15 e i 18 anni sono finiti nei guai per detenzione di stupefacenti ora rischiano la sospensione da scuola l'operazione è scattata ieri mattina poco dopo le 8 quando tutti i 2000 studenti dell'istituto alberghiero turistico ed economico avevano fatto il loro ingresso in aula e vediamo appunto le foto dell'arrivo delle unità cinofile della guardia di finanza che poi hanno effettuato il blitz all'interno delle aule e c'è l'appello della vice dirigente dello stringer tiziana ellero che dice dobbiamo fare rete tra istituzioni per aiutare i ragazzi a crescere anche le famiglie devono darci una mano i sei studenti rischiano una sospensione se ne parlerà anche nel corso di un'assemblea di istituto e poi sempre per la cronaca ancora una rapina ieri ai danni della posta che si trova al villaggio del sole dell'ufficio postale che si trova al villaggio del sole rapina alla posta caccia a due uomini ancora in azione al villaggio del sole il malvivente che ha colpito una settimana fa potrebbe esserci un complice stesso posto stessa ora ancora in azione il malvivente che una settimana fa sempre di mercoledì e sempre prima di pranzo ha rapinato l'ufficio postale di piazzale del but questa volta il bottino è più magro circa mille euro e poi ancora vediamo sempre per quanto riguarda la cronaca avevamo letto prima in prima pagina il sequestro di alcune armi trovate a bordo di un'auto di due cittadini tedeschi arsenale da guerra nell'auto denunciati due tedeschi trasportavano lanciarazzi granate bombe e mine anticarro e vediamo tutto il materiale sequestrato dai carabinieri di tarvisio in questa foto ecco appunto il materiale nell'auto nascondevano lanciarazzi bombe mine anticarro e granate un vero e proprio arsenale risalente alla seconda guerra mondiale due cittadini tedeschi marito e moglie sono stati denunciati per il reato di porto detenzione abusiva e vendita di armi il materiale è stato posto sotto sequestro a disposizione della procura di udine il controllo è scattato martedì poco prima dell'ora di pranzo lungo la statale 13 che da tolmezzo porta alla frontiera all'altezza dell'abitato di resiutta e poi ancora sempre per quanto riguarda la cronaca andiamo a tarvisio dove c'è stato un avvistamento particolare nei giorni scorsi un orso un orso ripreso mentre passeggia in via roma l'animale immortalato dalla videocamera di sorveglianza nei pressi della caserma dei carabinieri lo vediamo proprio in questo fotogramma del video lo vediamo passeggiare per tarvisio e ancora sempre per quanto riguarda l'orso un altro incontro ravvicinato vicino all'autogrill di bagni di lusnizza a malborghetto un esemplare fotografato da pochi metri metri il plantigrado si è fatto vedere in serata appunto anche nel capoluogo come abbiamo letto nell'altro articolo a quattro passi dall'orso che si fa fotografare prima di scomparire nel bosco per ricomparire in seguito nelle vie dei paesi a malborghetto e a tarvisio il protagonista di questo avvistamento così ravvicinato del plantigrado e angelo sarbasini comandante della polizia comunale di osoppo e già direttore della riserva di caccia di treppo grande che martedì scorso ha avuto l'opportunità non solo di vedere con i suoi occhi da vicino un orso ma è anche riuscito a fargli una serie di scatti che puntualmente ha pubblicato sul suo sul profilo su un suo social network ed ecco appunto la foto dell'orso andiamo adesso su un'altra prima pagina andiamo sulla prima pagina del messaggero veneto di pordenone così vediamo anche come apre il fascicolo dedicato a pordenone e provincia è stato presentato il festival pordenone pensa cultura ciriani sfida regione e pordenone legge il sindaco dice basta figli e figliastri le manifestazioni vanno sostenute in base ai risultati e non a chi le organizza ecco uno dei momenti della presentazione ieri e poi nell'articolo a fianco abbiamo i grandi nomi e nel 2017 sarà a giugno e nei quartieri ci dice il messaggero veneto in questo in questo articolo troviamo appunto tutti gli appuntamenti in programma in questa edizione del festival andiamo anche sulla prima pagina del messaggero veneto di gorizia si parla di piazza vittoria accordo su piazza vittoria in fumo 3,1 milioni di euro trovata un'intesa sulla vicenda giudiziaria legata ai lavori di riqualificazione il comune non avrà alcun risarcimento dalla ditta luci che pure rinuncia ai danni pari e patta dunque per tentare di mettere una volta per tutte la parola fine all'annosa vicenda giudiziaria legata ai lavori di piazza vittoria il comune il commercialista triestino matteo montesano curatore fallimentare della luci costruzioni la ditta che si era aggiudicata nel 2007 l'appalto per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione del vecchio travni che hanno trovato l'intesa per una transazione che fa chiudere la partita giudiziaria a zero un epilogo amaro visto che il comune intendeva ottenere un risarcimento di 3,1 milioni di euro andiamo anche sul gazzettino adesso andiamo sul gazzettino e vediamo le notizie principali ovviamente anche il gazzettino apre con la nuova america inizia l'era di trump questo è il titolo di apertura ma andiamo subito nelle pagine interne così andiamo a vedere anche le notizie che aprono il fascicolo di pordenone si parla del territorio che soffre in questo caso ci sono alcune difficoltà per la visualizzazione del titolo però è un bollettino di guerra il territorio soffre ancora parecchio i postumi della recessione e in vendita per fallimento complessi industriali tanti privati hanno perso anche la casa capannoni case e lavanderie la crisi mette mette a nudo le difficoltà di quest'area andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo dedicato al friuli ecco il titolo il garante non discriminate i rom roveredo dice carceri sovraffollate il 43 per cento degli studenti ha visto atti di bullismo omofobico citti in audizione ha invocato politiche sociali in linea con l'unione europea immediato alto là di forza italia con novelli che innesca la polemica in apertura quindi questa audizione del garante dei diritti in commissione regionale queste erano le notizie principali le pagine principali del gazzettino andiamo anche sulla prima del piccolo vediamo il titolo di apertura il mondo in missione digerire trump il neopresidente dopo la vittoria shock dice al servizio di tutti obama serve unità quindi anche sul piccolo vediamo in apertura la notizia del giorno e poi ancora per quanto riguarda l'università ateneo boom di iscrizioni a scienze a trieste matricole in aumento del 10 per cento exploit per fisica economia e legge con la prima pagina del piccolo chiudiamo questa nostra prima parte di rassegna stampa adesso ci fermiamo per un po di pubblicità e poi andremo a vedere le principali notizie sportive raccontate dai quotidiani di oggi rimanete con noi